Domenica 22 settembre a partire dalle 9.30 la costa abruzzese sarà chiusa per bici. La manifestazione voluta dalla regione Abruzzo in collaborazione con le tre province Teramo, Pescara e Chieti e i 18 comuni costieri è l'anteprima di ciò che verrà realizzato tra 24 mesi, assicurato l'assessore di Dalmazio, quando la nostra regione avrà a disposizione ben 130 chilometri di piste ciclabili che uniranno in maniera green San Salvo a Martinsicuro. Lungomare dunque chiuso alle auto è aperto a pedoni e ciclisti che potranno seguire gli spettacoli e l'intrattenimento preparati per l'occasione da ciascun comune. Inoltre attraverso la Sangritana ci sarà l'opportunità previa prenotazione di spostarsi con l'autobus da nord a sud e viceversa con la propria bicicletta al seguito in modo da poter gustare, nello spazio di una giornata, gli angoli più suggestivi della costa abruzzese, un plus da utilizzare per ampliare l'offerta turistica e allungare la stagione estiva. Immaginiamoci questa suggestione di tutta la costa chiusa alle auto, tutti i tratti di lungomare chiusi alle auto, invasi da biciclette, invasi da pedoni, invasi da feste perché i comuni, che ringrazio per la straordinaria partecipazione logistica e operativa, con il contributo della regione adotteranno tutta una serie di iniziative di animazioni musicali, valorizzazione no gastronomica, di intrattenimento per i bambini, per le famiglie, lungo tutta la costa che trasformerà questa giornata in un'enorme giornata di festa e di partecipazione sul tema della mobilità sostenibile, sul tema del cicloturismo, sul tema della pista ciclopedonale, tra le altre cose in corrispondenza è un periodo di grande valorizzazione e sensibilizzazione su questi temi in tutta Europa.